Oia ragazzi, oggi vi porterò un po' in giro per il mio paese, San Giorgio La Molara, in provincia di Benevento. Adesso vi faccio vedere un po' il panorama del paese. Vista, fino a un bel po' di anni fa, questa dalla mia scola, la media. La mia spalla, è di fronte a me, la nuova scola. È un caldo terribile, sono le 4 di pomeriggio, ma ci sono più di 30 gradi ancora. Qua, sempre alle mie spalle, è la scuola nuova che continua. Siamo in piazza. Adesso invece, vi porto per qualche vicolo. I vicoli sono una cosa molto caratteristica di San Giorgio. I vicoli saliti e discesi. Vi porto per questo vicolo e andiamo a piazza piccola. Qui ci troviamo nel pieno centro storico del paese. Piazza, scendiamo a piazza Sant'Antonio. Cazzo. Eccoci a piazza Sant'Antonio, dove c'è la chiesa di Sant'Antonio, ovviamente. E entriamo, la faccio vedere. Se c'è un po' di luce. Adesso invece vi faccio vedere un bel panorama. di San Giorgio. Piazza Sant'Antonio, che vi porto a San Vito. Oggi ho trovato la scusa buona per fare due passi dopo tutte queste feste. Sard, feste, festicciole, pub contro pub. Ci vuole. Viva San Vito. Bella tendenza. Andiamo. Facciamo prima una bella discesa e poi una bella salita. Un altro angolo caratteristico. Bellissimo. Buona salita. andiamo al casale la salita mi ha distrutto adesso vi porto in un altro un altro scurcio particolare guardate che gigoli lo lasciamo da quest'altra parte guardate questo di astento centro andiamo al casale andiamo al casale andiamo al casale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi porto in via il corso di margherita e scendiamo. Adesso vi porto un uvito sporgente e andiamo sul piscchetonico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.